Se volete acquistare crediti passate da FIFA CoinZone, sono veloci, sicure e con ottimo prezzo e con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, dunque bentornati su GIOVIACADISPO Io sono GIOVISPO e questo è il secondo episodio della serie Wager 2 Lewandowski Allora, in questa serie farò Wager Match per cercare di comprare Lewandowski che sta sui 150.000 crediti Questa partita farò un match scommesso da 5.000 crediti Naturalmente se anche voi volete fare Wager Match vi invito a passare dalla pagina Facebook, troverete il link qui in descrizione Contattatemi, ci mettiamo d'accordo e poi possiamo disputare in Wager Match Naturalmente sono su PlayStation 3 Volevo ricordatevelo, sono su PlayStation 3, non dimenticatelo Dunque, prossimo avversario Spacca i culi Abbiamo una pagatona Mamma mia, cazzo Questa mi spacca il culo Questa mi spacca il culo Si chiama, si chiama, si chiama, sta, Howard, Monreal, Desten, Mojesus, Coco, Onasi, Obi Mikkel, Uce, Musa, Martins, Emenike E che cazzo proprio, tutti nigeriani, tutti, cazzo, cazzoni, tutti cazzoni Cazzo, cazzo Nooo E dai, ma porca miseria, iniziamo bene sta partita Ma dai, ma dai, io con i difensioni mi incazzo a bestia Nooo Ehi, 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 a, ehi Vai, Andre Martins Wow, 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 Andre Martins, al 22esimo punto Così, uno a uno Spaccaculi Me l'ha spaccato E l'ho riaperto E l'ho ricucito E non so che sto dicendo Palla per London Che sta tu per tu col portiere, London Cazzo Dovevo avvicinarmi, dovevo avvicinarmi Vai, Smalling Palla, palla, Danny Il tiro di Danny Tutana Cazius Cazius Palla per Tadic Tadic Il tiro di Tadic Ma dai Traversa, traversa Danny Il tiro Rondon Mamma mia Ma questi, questi giocatori sono proprio sculati, cazzo Ci hanno proprio il culo aperto, cazzo Ma proprio aperto, 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 aperto Cioè Si è trovato lì Così Senza neanche saper lui Come abbia fatto Eh eh Non è fuori gioco e ha segnato Eh eh Cazzo Tadic Ancora lui Tadic Dai Tadic Questo è il secondo che mi sbagli Il secondo La lana Il tiro di la lana Parata di Howard Tiro insidioso Ma Howard c'era E su questo corner Andrà con la testa Rondon E la palla ancora Howard Palla per Rondon Rondon tira Rondon E dai Rondon E Rondon 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 Nooo Dai però era fuori gioco Ma dai Come fa ad uscire quello là lì Dai Non è bastata questa partita Si farà un seguito La seconda partita Squadra Squadra sempre quella Due È arrivato il momento della partita Ok Come si subisce gol Parte 2 Impariamo insieme a Joey Spock Come si fa a subire Sempre gol Sempre gol Vai alla grande Ma dai Affanculo Vai Rondon 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 Lo dico io È micidiale di testa Ha un fisico Un'elevazione Wow Impressionante Oh ma che cazzo Ma cosa cazzo passi così in mezzo con la testa Trimone Palalunga Tosic Tosic Dai ma perché Perché No No Per Rondon Rondon Il tiro di Rondon Vai Dai 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 Vai Se c'è nì Ho un porca puttana Sto Raffaele Di Porca puttana Questo Raffaele Questo Smalling Di Merda Di Merda Di Merda Un applauso Un applauso Un applauso Vincere Vincere Perdere Si perde Si perde Si perde Perché non è importante Avere giocatori forti In questo foot Importante Avere giocatori Veloci Stramaledettamente Fottutamente Baccati Perché Quest'anno In questo foot Funziona Così Le cose Vanno Così Ora non so neanche se state venendo qua Qualche immagine Porca Troi Se ne andate Là Non so niente Comunque Ora andrò a pagare questo wager Wager Per Alla prossima Sì